Iceberg porta in passarella una Porsche 356 e altre auto d'epoca Alla Fashion Week milanese, Iceberg porta una Porsche 356 grigia del 1958 Assieme a una Lancia B24, una usatura e alla mitica Fiat 500 del 63 Tutte per fare la scenografia alla sua sfilata Esattamente la location si trova in un cortile di un antico palazzo di Milano Ed è riempita appunto di auto e moto d'epoca della collezione della famiglia Gerani Proprio la proprietaria del mafio La collezione Primavera Estate 2019, come dichiara il direttore creativo James Long Si ispira proprio al mondo auto e moto Tanto è vero che in sfilata, in passarella, passano modelli e modelle con caschi particolari Abiti molto variopinti, presi grafici dei circuiti automobilistici Una vera e propria creatività del mondo auto riportato nei tessuti Anche i colori ricordano le auto Rosso Lancia, Argento Porsche, Verde Acqua, Alfa Romeo Amici piloti, non ci rimane che continuare a guardare anche le sfilate Per ricordarci che le auto d'epoca arrivano dappertutto Vi lascio alla prossima Bright Future Cliccatemi in piace, iscrivetevi al canale E ci vediamo alla prossima Grazie a tutti